Voglio trovare un senso a questa sera Anche se questa sera un senso non ce l'ha Voglio trovare... A five-story fire as you came Love is a losing game One I wish I never played Oh, what a mess we made And now the final frame Love is a losing game Played out by the band Love is a losing hand More than I could stand Love is a losing hand Self-professed, profound Till the chips were down Know you're a gambling man Love is a losing hand Though I battle blind Love is a losing hand Memories mar my mind Love is a losing hand 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 Grazie a tutti Invece la maggioranza 7 su 10 non sa riconoscere la truffa online C'è stata una ricerca specializzata nella sicurezza in rete E dice che il 72% di chi ha tra gli 11 e i 15 anni Può facilmente cadere in mano a dei cibernaltatori Per esempio, tanti condividono i dati personali come nome, indirizzo O intendiamoci, lo fanno anche da tutti Per non parlare delle foto E quindi questa analisi è stata condotta su oltre 6.000 adolescenti 1.000 dei quali in Italia E anche i loro genitori non escono bene da questa ricerca Perché il 58% ammette di non aiutare i figli a fronteggiare i ciber pericoli Ciao! 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 be happy in every life we have some trouble but when you worry you make it double don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy ain't got no place to lay your head somebody came and took your bed don't worry be happy the landlord say your rent is late he may have to litigate don't worry be happy be happy look at me I'm happy don't worry be happy I give you my phone number when you worry call me I'll make you happy don't worry be happy be happy ain't got no cash ain't got no style ain't got no gal to make you smile but don't worry be happy be happy because when you're worried your face will frown and that will bring everybody down so don't worry be happy don't worry be happy now don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry don't worry don't worry don't do it be happy put a smile on your face don't bring everybody down like this don't worry it will soon pass whatever it is don't worry be happy I'm not worried Fissa a 16 anni in età minima per accedere ai social work in New York e alle app di messaggio messaggistica istantanea in Italia il garante dei minori ha richiesto che l'età fosse abbassata a 14 anni mentre l'età minima per avere un account di Google cioè un indirizzo mail è di 13 anni non di 11 però questa ricerca dimostra che ci sono dei limiti fin troppo bassi a quell'età in effetti la capacità di giudizio non è sufficiente a evitare i pericoli specialmente quando manca il controllo dei genitori perché non sono mai consapevoli fino al fondo chi incontrano chi c'è al di là dello schermo no comunque vediamo che spesso c'è anche il discorso che il cosiddetto fishing o smicking cioè come è facile abboccare in queste percorsi pericolosi no cioè ci sono appunto dei messaggi che ti inducono a fare click e così ti esforce più informazioni possibile oppure ci sono tanti messaggi di fishing che sono falsi ma sono verosimili ad esempio pacco consegna non non ritirato per gli adulti il tentativo di un accesso al tuo conto online è facile di impulso aprire e leggere a volte basta poco è sufficiente anche per installare il proprio cellulare ora se questo è per le persone adulte già pericolose immaginiamo per un bambino che pericolosamente naviga per i fatti suoi ad esempio oggi vado a braccio poi avremo modo altre volte ci sono certe modi adesso molto insensate che bisogna bisogna che i bambini i ragazzini stiano molto lontani da tutto questo e questo lo dice la polizia postale dice che è veramente in allarme io ho parlato spesso per lavoro facciamo degli incontri nelle scuole con la polizia postale l'ultima moda di tiktok che è cominciato come un social di ragazzini mentre poi è chiaro ormai è diventato famosissimo e all'interno si nascondono e si inseriscono persone possono inserirsi persone di tutti i tipi di tiktok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti